Si è ucciso lanciandosi nel vuoto dopo aver raggiunto località Ripa della Falconara su Monte Terminio. L'ennesimo suicidio è stato messo in atto da un 54enne di Salerno di cui si erano perse le tracce ieri mattina. I familiari, non vedendolo rientrare, avevano allertato i carabinieri del posto che a loro volta hanno provveduto a diramare la notizia da altre compagnie. Sono stati infatti i militari di Montella a ritrovare nel piazzale della Falconara l'auto dell'imprenditore. La macchina, una Peugeot, era aperta e dall'interno, sul sedile lato passeggero, c'erano il telefonino ed un'agenda. È stato il primo segnale allarmante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia municipale e la misericordia di Montella, il soccorso alpino speleologico ed il SAF. Le ricerche del 54enne sono andate avanti per tutta la serata di ieri. Nel corso della notte il maltempo ha complicato notevolmente la situazione, ma nonostante ciò i vigili del fuoco sono rimasti sul posto. Alle prime luci del giorno le ricerche sono riprese. Alle 6 i pompieri hanno ritrovato il portafogli dell'imprenditore ed una serie di assegni. Poco distante il corpo senza vita del 54enne che si è lanciato in un dirupo. Difficili le operazioni di recupero del corpo, come si vede dalle immagini a ripa della Falconara. Questa mattina sembrava di essere in pieno inverno. Pioggia battente e nebbia hanno messo a dura prova i soccorritori, in questo caso soprattutto i vigili del fuoco che hanno dovuto operare tra mille insidie. Il 54enne coniugato e imprenditore nel settore per la distribuzione degli imballaggi non ha lasciato nessun biglietto, non avrebbe mai manifestato situazioni di disagio particolarmente gravi da poter far pensare che avrebbe potuto compiere un simile gesto. Ma le difficoltà anche per lui purtroppo in questo momento non mancamano e potrebbero essere state proprio le preoccupazioni legate al lavoro a spingere l'uomo a togliersi la vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'imprenditore, soprattutto capire con chi ha avuto gli ultimi contatti. In questo senso un aiuto verrà sicuramente dal telefonino. Anche gli ultimi spostamenti possono essere utili ai fini dell'indagine. Secondo indiscrezioni, l'uomo ha raggiunto il terminio in località Falconara nel pomeriggio. La morte potrebbe risalire alle ore 20 di ieri. Una zona che sicuramente come tanti salernitani conosceva ed anche bene, magari per averci trascorso più di una domenica. La Falconara è uno dei punti più alti della zona e frequentata dagli amanti della montagna, meta non raggiungibile da chi non ci è stato almeno una volta. Evidentemente il 54enne aveva scelto anche il luogo dove mettere in atto l'insano gesto.